Dov'è la cucina? Si può lasciare la sigla sotto? Sono veramente incazzato! Dove cazzo? Sono i cuochi! Salve, sono Gordon Ramsay, lo chef più famoso del mondo! E questa è per Paramsay, la voce della mia coscienza che impedirà che io dica parolacce in fascia protetta! Porca putt! Oggi come si chiama lei? Pino? Oggi siamo in un locale famosissimo, il Pinos! Un locale che ha aperto da poco, ma che ha già un debito di 450 mila euro! Porca putt! Forza, entriamo! Cazzo è l'entrata! Che giramento di... Dov'è l'entrata, scusi? Perciò 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 Ok Salve, lei deve essere Pino il titolare di questo ristorante Ce l'ha un microfono, Pino? Ok, vieni Pino Ok Magari, dico, forse... I droghi, Pino? Andi così naturalmente? Porca putt! Si, anzi, cosa fa? Accoglio un grandissimo chef così, porca putt! Si, porca putt! Ah, mi sto veramente... Andiamo in cucina, forza! Andiamo in cucina! Adesso li faccio... O così ai camerieri! No, c'è il coso! Non ridere! Forza! Ascolta, Pino Non mi far far figura di me con la gente Ok? Sei pronto? Tu devi partire con la tua ricetta Ci sei? Ci sono Ci sei, allora andiamo Forza, Pino Pino, più forte che mai Guarda quante facce da... Ci sono in cucina, guarda Ok Salve, questo è Pino il titolare di questo ristorante Caro Pino, dobbiamo fare qualcosa per risollevare le sorti di questo posto Ok? Ehi, ho assaggiato il tuo tortino al lapino Fa veramente cazzo Eh! Lo scommelo prepari il tortino al lapino